Siamo sulla strada giusta, così il senatore Sandro Ruotolo del gruppo misto ha commentato il blitz dei carabinieri che hanno fermato sette persone in esecuzione di un decreto emesso dalla DDA Partenopea. Farebbero parte di uno dei due gruppi criminali che ha seminato il panico nell'area nord di Napoli, nei comuni di Fratta Maggiore, Fratta Minore e Arzano con stese, attentati e intimidazioni per aggiudicarsi il predominio dello spaccio di droga, trafficavano armi, sequestrati un fucile a pompa, munizioni anche una bomba a mano fabbricata nell'ex Jugoslavia, a far scattare le indagini la scoperta due mesi fa di un arsenale nascosto in un terreno. Le persone arrestate farebbero parte di questo clan a Monfregolo, sono tutti o quasi tutti di Fratta Maggiore, credo. È una prima risposta in una situazione estremamente preoccupante, abbiamo acceso giustamente i riflettori e abbiamo sensibilizzato, ci siamo attivati sui territori. Poche ore fa avevamo manifestato con i pizzaioli vittime degli spari della camorra di Fratta Maggiore e questa è la prima risposta. Certamente ne occorrono delle altre. I sette arrestati, quattro uomini e tre donne devono ora rispondere di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, detenzione e porto illegale di armi clandestine e ricettazione, tutti aggravati dalle modalità mafiose.